Buonasera al pubblico virtuale. Comincio presentandomi. Sono una ricercatrice in farmacologia, lavoro per l'Università di Torino, lavoro all'ospedale San Luigi a Orbassano. Sono anche rappresentante dei ricercatori in senato accademico, divulgatrice scientifica in collaborazione con l'Associazione Centro Scienza, giornalista scientifica, collaboro attualmente con la stampa. Quando mi è stato proposto di partecipare al tema della giornata di oggi e mi è stato detto che avrei dovuto parlare di migrazione, ho pensato che di fatto io non avessi molto da dire in termini di migrazione, ma poi ho pensato che la migrazione è movimento, che la migrazione può essere anche declinata in ambito clinico scientifico. Allora ho pensato alle migrazioni delle particelle in fisica ad esempio e ho pensato in realtà alla migrazione che mi caratterizza nel movimento cerebrale che mi accompagna quotidianamente in tutte le mie giornate lavorative. Ho pensato alle migrazioni di idee e vedete in questa immagine questa testa piena di idee di una donna ovviamente, non a caso. Allora ho pensato che forse posso parlarvi di quello che faccio per ricerca e cioè la ricerca in ambito clinico sanitario in ottica di genere. Vi siete mai domandati se di fatto possiamo pensare che esistano gli stessi farmaci da assumere con il medesimo profilo di sicurezza per l'uomo e per la donna? Beh, assolutamente no. Le donne sono state escluse dalla sperimentazione clinica dei farmaci fino al 1993 e le malattie sono state studiate nel corso dei secoli soltanto su modelli maschili e questo è un problema che fonde le radici nel passato per come la donna è stata vista nel corso dei secoli. Partiamo da Galeno, medico e filosofo che nel secondo secolo dopo Cristo descriveva le donne come caratterizzate da organi sessuali introversi e malamente sviluppati, quindi difficili da studiare, perché non evidenti. Vesalio a metà del 1500 padre della moderna anatomia diceva che bastava soltanto studiare il maschio come modello neutro universale. Per arrivare poi a Lombroso che all'inizio del 1900 in un trattato bellissimo la prostituta, la donna normale, la donna delinquente diceva, ahimè, che non è che la donna di fatto sia meno delinquente dell'uomo perché è più elevata dal punto di vista morale, ma perché proprio non ci arriva perché è meno intelligente, meno capace, meno coraggiosa, meno intraprendente. Allora arriviamo da lì, da questa storia, da questa società. Quindi all'inizio degli anni 80 il modello di riferimento per lo studio dell'anatomia, per lo studio delle malattie era come 450 anni prima enunciava Vesalio, il maschio. E la donna era relegata alla sindrome del bikini, cioè importante soltanto se funzionava dal punto di vista delle funzionalità riproduttive per la società che nel corso dei secoli l'aveva relegata agli unici ruoli che dovevano funzionare, quello di moglie e quello di madre. Nel 1991 una cardiologa statunitense Bernardine Healy attacca i colleghi cardiologi per le minori cure, le minori attenzioni, gli errori grossolani riservati alle donne che si recavano in ospedale recando una sintomatologia da infarto. Perché? Perché l'infarto è stato studiato nel corso degli anni su modelli maschili. E quindi il fatto che la donna magari riporti un semplice senso di affaticamento, una dispnea o semplicemente manchi di quel dolore che irradia dal petto al braccio sinistro, faceva sì che le donne venissero ricoverate in ospedali con reparti anche non cardiologici. Quindi Bernardine pubblica un articolo sul New England Journal of Medicine, una delle riviste più prestigiose a livello mondiale di taglio scientifico e lo chiama La sindrome di Yentl. Articolo che poi prese spunto chiaramente dalla storia, dalla letteratura, da un romanzo scritto dal premio Nobel Isaac Singer in cui si racconta la storia di una ragazza che voleva studiare il Talmud, voleva frequentare la scuola ebraica ma era donna e quindi non poteva. Allora cosa fa questa ragazza? Si taglia i capelli, si veste da uomo e va a frequentare la scuola ebraica. Quindi Bernardine Hill in questo articolo dice che all'inizio degli anni 90 in America bisogna fingersi uomini per poter essere adeguatamente curate di infarto. Questa mancanza delle conoscenze al femminile, questa lacuna si è ripercossa nel corso degli anni in tutte le branche della medicina specialistica, dalla cardiologia alla pneumologia, all'oncologia, all'infettivologia così frequente oggi nella nostra cronaca. E per quanto riguarda i farmaci? Io sono farmacologa, insegno all'università, per ricerca faccio farmacologia di genere, mi occupo di una corposa parte di routine clinica in ottica di ottimizzazione delle terapie. Ecco i farmaci come ho già detto sono stati testati nel corso degli anni fino al 1993 soltanto su modelli maschili. Quindi la tossicità e l'efficacia nelle donne per tutti i farmaci che sono stati immessi nel mercato prima del 1993 è pressoché ignota. E ad oggi le cose sono un po' migliorate ma le donne di fatto vengono reclutate per un 25-30% degli studi di sperimentazione clinica dei farmaci. La storia ci ha regalato purtroppo tantissime criticità per mancanza di previsione, per mancanza di sperimentazione pianificata. Il disastro della talidomide, il farmaco potentissimo antiemetico che veniva somministrato alle donne in gravidanza per lenire le nausee del primo trimestre della gravidanza. Siamo a cavallo degli anni 50, fra gli anni 50 e 60. Signora prenda questo e la talidomide funziona benissimo, le toglie tutte le nausee. Il problema è che la talidomide è mai testata su un modello femminile, men che meno su un modello in gravidanza prima di essere messa in mercato. In realtà è anche un potentissimo inibitore dell'angiogenesi. Quelle donne nell'era pre-ecografica hanno abortito tantissimo, hanno dato alla luce bambini che oggi sono sessantenni focomelici. Nessuna tara genetica, solo assenza di sperimentazione clinica, assenza di previsione. eppure di differenze ce ne sono tantissime a livello costituzionale, a livello biologico, differenze fra l'uomo e la donna. Minor peso corporeo che si bilancia fra una minor massa grassa nella donna, una minor massa magra, una maggior massa grassa, minor velocità di svuotamento gastrico, minor motilità intestinale e tantissimi altri parametri che debbono contare nel momento in cui si deve curare al meglio ciascuno di noi, proprio per andare verso una vera equità di cura. Allora dobbiamo pensare a ripensare le sperimentazioni cliniche, a studiare al meglio le malattie su ognuno di noi, a ripensare i farmaci in ciascun individuo, perché nelle donne i farmaci datati danno molta tossicità, danno più allergia, funzionano meno. Bisogna tener fede alla farmacocinetica e alla farmacodinamica per uscire da quello stereotipo secondo cui ancora oggi i farmaci vengono testati su modello maschile caucasico di 70 kg. Possiamo davvero estrapolare queste informazioni a tutto il resto della popolazione? Per il servizio in cui lavoro mi occupo del monitoraggio, della quantificazione di tantissimi farmaci, della conseguente analisi farmacogenetica da cardiologici ad antitumorali ad antifungini, ma il sistema sanitario nazionale ad oggi non mi richiede di rifertare in modo diverso per uomo e per donna, eppure è assolutamente l'obiettivo del futuro. E al di là della massiccia parte di routine clinica, per ricerca faccio farmacologie di genere, cioè vado avanti con il mio gruppo di lavoro a pubblicare articoli che possano creare una sorta di consensus per la letteratura mondiale. Ad esempio abbiamo visto quest'anno che le donne in gravidanza sono molto più protette dall'incidenza di Covid-19 rispetto alle coetane non incinte. Possiamo davvero continuare a non considerare queste differenze? Un altro articolo appena accettato riguarda le differenze in ambito di tossicità a seguito di somministrazione di chemioterapici su pazienti affetti da carcinoma al colon retto. E allora tutte queste puntate di divulgazione che ho fatto negli ultimi anni, e qui ce ne sono solo alcune, mi hanno portato alla pubblicazione di un volume quest'anno, La medicina delle differenze, come dicevamo nel titolo, un libro che mai avrei pensato di riuscire a scrivere in un periodo così difficile come quello che ha caratterizzato le nostre vite quest'anno. Il libro è andato ovunque davvero, le presentazioni in presenza ovviamente sono difficili, ma è uscito su tutte le principali testate, stampa, repubblica, manifesto, messaggero, oggi sull'internazionale. Proprio perché è un argomento di cui bisogna parlare alla popolazione in modo semplice per informarli al movimento che ci aspetta. Concludo sempre con dei tratti giuridici del mio lavoro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1946 ci dice che la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia. Beh, facile, ma alla fine del 1800 o all'inizio del 900 non era così. Star bene voleva dire non essere malati. Oggi abbiamo per fortuna una consapevolezza diversa. La salute è davvero l'unico diritto inalienabile di ciascuno di noi. Lo dice l'articolo 32 della nostra Costituzione, lo dice l'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. È ciò che davvero nessuno può toglierci. E l'articolo 33 della Costituzione italiana, col quale chiudo sempre, dice che l'arte e la scienza sono libere e libero ne deve essere l'insegnamento. Libero da stereotipi, libero da falsi costrutti e non ci può essere una vera ricerca clinico-scientifica senza la libertà. La libertà di studiare tutto, sempre nel modo più completo possibile. Grazie. Lasciamo anche il fliegher.